Allora, benvenuti, ci troviamo in via Berghini. Vi propongo questo immobile. È un appartamento ideale per una giovane coppia, un single. Ci troviamo a via Berghini 37L, nella parte alta della via, vicino al forte di Santa Tecla. Il riscaldamento è centralizzato, la porta è blindata, i pavimenti sono in graniglia la genovese. Gli infissi sono di penultima generazione, già con doppio vetro taglio termico. Iniziamo con la visita, quindi questo è l'ingresso. Ci mettiamo in questa che è la zona living. Di fronte a noi abbiamo la cucina, è tutto aperto, è stato recentemente ritinteggiato tutto quanto. Usciamo dal balcone, usciamo dalla porta finestra, vi faccio vedere, perdon, il balcone. Abbiamo appunto, di fronte a noi c'è la strada che ci porta al forte di Santa Tecla, qui c'è la fermata dell'autobus e qua c'è la fermata dell'autobus. Questo è lo spazio esterno, il balcone, comodo. Rientriamo, lo guardiamo da quest'altra angolatura, l'immobile, l'inquadratura, perdono. Come dicevo, un appartamento ideale per un singolo o una giovane coppia. Questo è l'ingresso con la porta blindata, il bagno con il box doccia. Vediamo i sanitari. L'acqua è diretta, non c'è l'ascensore, è un primo piano senza ascensore. Quindi questa è l'unica camera da letto, grande come si può ben vedere. Voilà. Apriamo la finestra. Questa è l'affaccia che abbiamo invece della camera da letto. Facciamo il riepilogo veloce. Quindi la camera da letto unica. Qui alla nostra sinistra abbiamo il bagno con il box doccia, l'ingresso con la porta blindata ovviamente e terminiamo la visita da quella che è la zona living della casa con la cucina. Ci troviamo in via Berghini 37L.